Respira, respira. Quanto è bella. Respira, respira. Cosa faccio? Svengo? Ma che meraviglia è. E questa che bella. Madonna, tanto. Madonna, tanto. Madonna, tanto. Madonna, tanto. Madonna, tanto. una famiglia che sa scusarsi sa perdonarsi non ha nulla che temere quando ci rivedremo nel cinquantesimo di matrimonio che per questioni di età lo faremo verso le sette di sera perché il sole ci fa male i nostri capelli saranno di colore diverso le sembianze fisiche cambieranno ma la vostra casa sarà diventata come una casa antica le case antiche più vecchie sono più belle sono quelle sono le famiglie che all'occorrenza si sanno scusare si sanno perdonare grazie a tutti grazie a tutti